ecco qua l'isola che adesso vi vado ad ingrandire la cosiddetta isola dei morti heart island si trova a largo del quartiere di city island infatti i traghetti partono proprio da questo molo che sto inquadrando è un'isola chiusa al pubblico ed infatti ha un compito molto specifico vi vengono seppelliti i cadaveri di coloro di cui nessuno ne reclama i corpi la prima fu una orfana nel 1869 e per i lavori di sepoltura vengono utilizzati i detenuti della vicina prigione di rikers island heart island che durante il periodo di covi debba alzato agli onori della cronaca poiché i giornalisti giornalai pur di procacciare ascolti e portare avanti i titoli sensazionalistici scrissero pubblicarono la notizia fecero divulgare questa voce che a new york city non ci fossero più posti per seppellire i morti e fosse stata aperta quest'isola notizia assolutamente falsa poiché appunto heart island a questa funzione di sepoltura dei cadaveri già dal 1869 come vi avevo detto